Ripeto, è un altro lembo, non mi si sta abbassando, molto alto, troppo, prendete delle basse, delle basse, pur essendo suonato perfettamente, molto bene, mi dà fastidio. Poi se posso avere un'asta, viste che non devo suonare la chitarra, se ho un'asta dritta, così è veloce, è già. Bellissimo, bellissimo. Poi se posso avere una chitarra, se ho un'asta dritta, tormente la luna. Alza un po' la chitarra, alzami in prima chitarra e mi abbassi un db loro, per favore. In questo si rossono d'anime. La voce perfetta solo che quando ci saranno in tutto quanto mi dovrei seguire nel paese db. Ok. Poi, per raggiungerci oggi, ho visto qua. Non mi ricordo, ma, non c'è un pacco di inizio. Non cazzo, ho scritto. Non c'è un pacco di inizio. Ok. E dì, il calcio e il piano è veloce, Grazie a tutti 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 Grazie a tutti